Ciao a tutti, sono Marc di Gamesoul.it e oggi vi mostro come sbloccare l'obiettivo Deep Thought in iDorb, gioco a mio parere fantastico a casa con i propri amici. Questo obiettivo è segreto, quindi non compare la sua descrizione nella lista e per ottenerlo bisogna vincere una partita avendo un punteggio complessivo di esattamente 42 punti. Il modo migliore per farlo è convincere una partita in locale da soli per poi passare il tempo a buttare la palla nella nostra avversaria, stando attenti alla fine di non superare un punteggio richiesto. Ma ora lasciatemi spiegare il senso di questo obiettivo. Per chi di voi non è pratico di internet e non sa cosa sia Guida Galattica per Autostoppisti, Deep Thought è il nome del super computer a cui è stata posta la semplice domanda di trovare il senso dell'universo. Ebbene, dopo un sacco, e dico veramente un sacco di tempo, questo computer ha dato la sua risposta, ovvero 42. Da qualche anno questo numero è diventato un vero min su internet. Comunque alla fine della partita, dopo aver raggiunto il punteggio, aspettate un attimo e... Oop, achievement! 100 punti facili facili, come del resto un po' a tutti gli obiettivi di questo gioco. Questo è quanto, ricordate di iscrivervi al canale e controllare il nostro sito per tutte le informazioni nel mondo del gaming. Adios!